Avete mai visto nelle sacche dei vostri amici dei wedge con le righe ovvero i groove fino alla parte finale della faccia del bastone? Oggi andremo a vedere cosa sono, come funzionano, perché li hanno fatti. Bella G! Bella B! Andiamo a vedere! Vai racconta il feeling che poi io ti spiego un pochino tutte le peculiarità di queste due versioni di wedge. Sto cercando di colpire delle palle di punta, come questa, proprio punta piena, assoluta, contro invece palle un po' più centrali per vedere cosa succede, come parte la palla in ogni zona della faccia del bastone, perché la differenza, come tu fra poco ci racconterai, non è solo sul fatto che le righe arrivano fino al fondo della faccia del bastone, ma è anche una questione di pesistica e quant'altro. Allora, primo feeling che ti dico è che fa un suono diverso rispetto al bastone, chiamiamolo, normale. Sì, standard, quello che un po' tutti conosciamo e abbiamo visto. Questi bastoni, che chiamano full toe oppure high toe, hanno fondamentalmente tre peculiarità. La prima è quella di avere, quella più visibile ovviamente, è quella di avere queste linee, queste righe, che sono i grooves, che vanno da parte a parte della faccia del bastone. Quindi, al posto di avere questi tagli, ok, e poi in alcuni punti non avere tutta questa lavorazione, i bastoni full toe o high toe, a seconda delle case, lo chiamano leggermente in modo diverso, hanno questi grooves, che servono fondamentalmente, un po' come il battistrada della macchina, delle gomme della macchina, servono per incanalare, per esempio, un po' d'acqua, un po' di rugiada o l'erba e riuscire ancora a far colpire la faccia del bastone con la palla, oppure semplicemente quando proprio tutto pulito, tendenzialmente grattano, un pochino come se fosse la grattugia, ok, del formage. Quindi cosa servono queste in particolare? Servono allungate così per riuscire ad andare a mangiucchiare, a sgranocchiare la palla, anche quando, aprendo tanto la faccia del bastone, ok, cosa succede? Che la direttrice su cui colpirai la palla è molto più vicina alla punta rispetto al centro, addirittura al tacco del bastone, anche perché sicuramente, aprendo così tanto, tu non vuoi andare a prendere la palla sul tacco. La pipetta è la prima cosa che succede quando si apre così tanto e quindi cercando di stare abbastanza lontano dalla pipetta, la palla viene presa, sì, diciamo in zona punta. Stavo valutando adesso, con questo bastone qui, che in realtà non arrivo a prenderla così tanto di punta da iniziare ad azionare quelle che sono le righe, quelle più estreme. Extra, il pezzettino extra. Guarda che si vede qua dove sto prendendo le palle, anche mirando con la faccia molto aperta e un colpo preso di punta, vado a colpire dove finiscono le righe. Sì, sì. Chiaramente un po' di margine in più potrebbe aiutare. Sì, diciamo che qui la palla è messa abbastanza bassa sul terreno. Succede più spesso di prendere nella parte alta della faccia del bastone e quindi un po' più dove ci sono le righe extra, quando c'è più spazio sotto la palla. Esatto, tipo in queste situazioni qui. Perché? Perché molto semplicemente la palla a quel punto scivola sul bastone. Vediamo se è visibile. Eh, si scivola leggermente sul bastone e si comincia a colpire più verso la parte alta. Ok, quindi che cosa fanno? Abbiamo detto. Linee più lunghe, i grooves. Ma ci sono tante altre cose, due in particolare. Chiaramente avendo una conformazione fatta per aprire la faccia del bastone, tendenzialmente spostano il baricentro facendo questa parte del bastone un pochino più cicciotta, più piena. Un po' più pesante. Questo porta il baricentro dal centro leggermente più in alto e sulla punta, che è dove tendenzialmente si va a pensare che questo genere di bastone, tenuto aperto e facendolo scivolare bene sotto la palla, possa andare a colpire la palla. Così si ha un po' più di massa e quindi di sensazione di colpo pieno, anche quando si fanno questi taglioni fondamentalmente. E l'altra cosa fondamentale, la terza, è che la suola, nonostante, Benny favorisca anche l'altra suola, nonostante le suole siano praticamente identiche come bounce, infatti vedete, leggete 10 e 10 di bounce, sono strutturate in maniera leggermente diversa. Soprattutto quella del full toe, o high toe per quanto riguarda per esempio Taylor, è più scavata nella parte del tacco, quindi è più smussata, in modo tale che quando si cerca di aprire la faccia del bastone, fa il movimento di aprire la faccia del bastone, chiusa, aperta. Questa parte del bastone è quella dove tocca di più sul terreno e avendolo più smussato riesce ad abbassare comunque la lama del bastone e far sì che questa possa passare più facilmente sotto la palla. Su un wedge normale è fattibile perché sono studiati apposta per fare questo, però lo è un po' meno. Quindi il tipo di suola, l'abbiamo anche spiegato in un altro video, il baricentro, il punto di massa, il centro di massa e i groove leggermente più allungati verso la punta, favorirebbero tendenzialmente un colpo preso più in alto e quindi con la faccia più aperta. Ma adesso a noi ci interessa di vedere un pochino, fare un po' di test. Soprattutto, sai, l'ultimo che faremo è quello sul colpo pieno. Bravo, se dovessimo giocarlo dritto il bastone, a questo punto avere un bastone tra virgolette sbilanciato, con il peso un po' sulla punta, non va a creare dei problemi quando dobbiamo tirare il colpo dritto, perché sarà a questo punto io mi prendo un bastone già con più loft e gioco il mio colpo dritto per dritto, un bel 64 gradi e cosa mi interessa di prendere così tanto la lama? Proviamo, facciamo un po' di test e vi facciamo sapere che cosa ne pensiamo. Primo posto da cui si tende ad aprire la faccia del bastone, uscita dal bunker con un po' di sabbietta, una via di mezzo, non troppa neanche troppo poca, molto corta, quindi bisogna aprire tanto la faccia del bastone, una bella botta sotto e il bastone mi lavora, questo è un bastone che conosco come tipologia e quindi direi che si è comportato come mi aspettavo. Adesso vediamo, grazie valletta Benny? Il valletto. Il valletto, il fulto, se sento un po' di differenza, se ha qualcosa... La differenza è che hai quasi imbucato. Allora, sincero, in questa situazione dove si colpisce tanta sabbia e pochissima palla, la sensazione dinamica è praticamente la stessa, la sensazione all'impatto è rimasta abbastanza simile. Io direi che sulle uscite dal bunker l'unica cosa che potrebbe aiutare leggermente quando comincia a esserci un po' meno sabbia è proprio che la conformazione della suola, essendo fatta per cercare di aiutarti a passare sotto la palla anche quando apri leggermente la faccia, fa forse un filino meglio questo lavoro, ma in determinate situazioni solo con bunker di un certo tipo. E quindi più conformazione di suola che non faccia e baricentro. E questa cosa poi diventa anche innata e la capisci rispetto al tuo tipo di bastone, quindi se sei abituato a un bastone con una suola di un certo tipo o con una suola un po' più scavata come questa, semplicemente ti adegui. Quindi direi qua un pari e patta, non c'è un motivo per scegliere un bastone diverso da uno standard soltanto per il bunker. Io invece lo proverai in un'altra situazione. Vediamo come si comporta con un cippettino dritto per dritto. Questo lavora. Sì, giustamente, devi fare un cippolo, devi far alzare un pochino, hai il 58 in sacca nel caso specifico, ci sta di tirare un colpetto. Vai di feeling che qua... Aspetta che te la devo rifare perché si sente da fuori il suono diverso. Bravo! Ho sentito una cosa, tutte e due le volte, è come se all'impatto il bastone avesse preso la palla male. Leggermente fuori centro. Come se il bastone andasse un pochino in rotazione e un impatto quindi un po' strano. A questo punto probabilmente il centro del bastone non è il centro fisico dove si trova negli altri bastoni, ma è leggermente più verso la punta. Questa già suonava un po' meglio come vibrazioni. Però sì, bisogna mirare proprio in un altro punto per ottenere il suono giusto. Che poi in realtà... Qua. Qua. Sì. Invece che qua. Eh beh, ma sì, perché quel peso in più che c'è sull'orecchia, questo pezzo qua, che io lo chiamo l'orecchio, ok, c'è un po' più di peso e questo peso in più chiaramente fa spostare leggermente il baricentro dal centro del bastone, leggermente più in alto e leggermente più a destra. proprio perché se fai la stessa cosa ma aprendo la faccia, il punto dove andrai a colpire la palla è molto più vicino a questo nuovo baricentro. Però un po' come dicevo prima per quanto riguarda le uscite dal bunker, anche questo genere di sensazione, nel momento nel quale il bastone l'hai scelto, magari per altri motivi, ti dà la possibilità di avere dei colpi che ti servono su questi colpi. Quindi sì, noi che siamo abituati all'altro lo sentiamo, ma se fosse il tuo, sentiresti così tanto fastidioso? No, è vero. Una volta partita l'abitudine, il problema è il contrario. Essendo abituato io a colpire la palingetta, adesso questo qua mi suonava un pochino diverso. Però a questo punto ti dico, ma il fatto che abbia tutti i ferri in una maniera e il wedge diverso, fa creare un po' questa dicotomia tra un bastone che lavora in un modo e un bastone che lavora in un altro? E infatti, se andate a vedere in tutti i siti delle case che costruiscono bastoni come questo, tendenzialmente cominciano a farlo da un 54, 56, cioè comunque wedge abbastanza aperti. Proprio perché sono i wedge dove le case si aspettano che i giocatori cominceranno ad aprire un pochino la faccia. Però è vero anche che se io mi faccio una serie dove poi ho 54 e 58, per esempio, full toe, o anche solo il 58, poi a volte mi potrebbe capitare di avere dei colpi che io faccio dritti. Il bastone, per esempio, deve funzionare. Per esempio lo scuzzo. Allora, tiro una scuzzata con un 58, quello, diciamo, standard. Per chi non sapesse che cos'è lo scuzzo, abbiamo un video, trademarked by Gigi Iannuzzalli. E' un colpetto quando è fairway oppure nel raffettino tra il lusco e il brusco. Con la palla non messa benissimo. E le mani molto avanti, bastone molto, la palla molto a destra, ok, chiaramente per i destri, e una specie di accettata dove però il bastone poi non va in avanti, quindi tieni un pochino i colsi. Gli dà la zampata. Gli dà la zampata, sì, si, è detta proprio alla brutta. Adesso provo a rifarlo con il fulto, che prova a vedere se anche a te dà quell'effetto rotazione della faccia del bastone. Allora, sì, mi dà, sai cosa? Già soltanto a vederlo giù mi è successa una cosa che non mi aspettavo. Intanto guardate che, non so se si vede, l'ho colpita un po' più verso la punta. Comunque, sai cosa? Finché lo apro, il fatto di avere tante linee molto più lunghe non mi dà fastidio. Dritto ho perso l'abitudine che ho a trovare il centro del bastone, perché qui il centro del bastone io lo trovo a metà tra le due righe, invece lì non ho le righe. E comunque, anche qui, non so se si vede, comunque la palla viene colpita su questa parte. Quindi l'idea di spostare il baricentro e avere anche un po' di linea in quella zona non è sbagliata, anzi, è interessante. Adesso provo a fare un altro colpetto. Adesso, quindi devo proprio andare a cercare, devo riabituarmi. Riabituarmi. Ok, molto bene. Infatti adesso che ho trovato dove era il centro, ok, però l'ho dovuto proprio, mi sono dovuto ritarare. Quindi, un po' come abbiamo detto già nelle altre test, fa tanto il fatto che ho deciso di metterlo in sacca, perché ancora dobbiamo vedere dove realmente aiuta. E allora a quel punto poi mi imparo a giocarlo anche in situazioni dove forse non è fatto per fare esattamente quel colpo. Adesso ci vuole quello un po' più polpastrelloso. Vieni polpastrelloso. Arriviamo nella sua zona, ovvero, per esempio, ho volato il green, ho volato il bunker dietro al green. Quanto la tieni lunga? Eh vabbè, ma era per fare il figo, se l'ha capito, eh? Allora, sì, è vero. E sono finito in un postaccio dove c'è un po' di raffaccio schifoso. Ho bisogno di un superlobotto. La palla è un po' sollevata nel raff, questo un po' duretto, un po' croccante. Croccante, mi sembra una buona definizione. Ok, e tiriamo prima il nostro 58 standard. Lui passa sotto, palla in the air. E via andare. E via andare. Vai a vedere. Allora, ricorda. Dove l'hai presa? Guardate, dove l'ho presa? In altissimo. In altissimo. E molto vicino a dove finiscono i groove nella parte alta. Ed è proprio qua che questo genere di bastone comincia ad avere senso, più che in tutte le altre situazioni. E' ovvio, fa un po' strano perché cosa dici? Ma capo, aspetta, un bastone per un colpo particolare da una situazione? Ecco, questa è la classica cartina tornasole per riuscire a capire che a volte ci sta anche di avere un bastone che è più votato a determinati colpi, se per conformazione dei campi dove di solito giochiamo, per nostro modo di giocare, cioè spesso manchiamo i green in situazioni dove poi ci serve questo genere di colpo, beh sì, può avere senso, perché ci aiuta a salvare una situazione dove magari con un bastone normale faremmo più fatica. E allora, vediamo un pochino, qua siamo... Dovrebbe essere nella sua zona, la massa è maggiore proprio in quella zona lì. Ci sono passato quasi fin troppo sotto. Quasi troppo sotto. Eh sì. Dove l'hai presa? Eh, non si vede tanto bene, però anche qua, guardate. Quindi appena si inizia ad aprire la faccia del bastone... Riproviamo, riproviamo. Riproviamo, sì sì, riproviamo. Su un raffone molle, ecco che automaticamente, per evitare il tacco, la palla si va a colpire in quelle zone lì. Bene, va in un alto che è una bellezza. Eh sì, la si colpisce un po' nella parte alta. Queste situazioni o, e qui secondo me poi arriva il bello, la situazione che è un po' figlia simile a quella di prima, ma dove di solito si va ancora più in crisi, che è una palla, guarda, te la metto bene, sostenuta in raff, dall'erba un po' croccante, con sotto però poi un po' di duro. ecco che lì anche il tipo di disegno della suola ci viene in soccorso perché la palla è in alto, come se fosse quasi su un piccolo T, quindi la colpiremo nella parte alta e a destra, quindi dove c'è l'orecchio. e il fatto che è più scavata non ci darà problemi, o almeno non dovrebbe, yahoo, in the air, in the air, perché è fatta apposta per scivolare, per essere aperta. Ecco, questo genere di colpi con questo bastone diventano più divertenti e anche un pochino più facili, perché? Perché si ha lo strumento giusto per il tipo di colpo che si decide di fare e non si ha uno strumento così sbagliato o diverso dallo standard quando si cerca invece di fare un colpo un po' più normale. Però adesso voglio due o tre colpi pieni da te, perché è sul colpo pieno dove, secondo me, c'è da capire se si può o non si può fare con questo genere di bastone. Il drittone forte pieno dall'erba. Questo lo conosciamo, parte bene, vediamo se su un colpo pieno anche l'altro dà quel feeling di l'ho colpita fuori centro, oppure no. Che potrebbe tornare utile, un bel 58 gradi pieno, tirato forte. E il suono ancora non mi è piaciuto assolutamente. Vibrazione nelle mani altissima. Eh, perché è fatto per fare altro. Secondo me è anche una cartina attorno al suono del fatto che è fatto bene. Sì. Perché se davvero mi sposti il baricentro, quando poi lo colpisco nel centro, ci sta che lo senta un po' strano. Infatti va presa fuori centro, qua l'ho trovata abbastanza centrale l'impatto. Questo l'ho sentito vibrare bene. Eh sì, perché l'hai colpito leggermente sulla punta. Direi che, ecco, questo è una cosa che io non consiglierei, non so, dimmi cosa ne pensi tu. Cioè, se ho in sacca un bastone del genere, non mi metterei poi sui colpi pieni a cercare apposta di prendere la punta. lo giocherei prendendola nel centro e sapendo che quello è il suo suono quando la prendi nel centro. Esatto, anche perché il volo non è drammatico, anche perché alla fine ci aspettiamo una palla che deve fare un chilometro. Esatto. Però quella sensazione sulle mani è abbastanza sgradevole in uno dei colpi dove però la sensazione sulle mani è un ottimo indice per dirci come l'ho presa. Eh sì, è un colpo di polpastrello. È un colpo di mano dove il sentiere, questa l'ho presa appena pulita, me l'aspetto tre metri più lunga, serve anche solo per sapere, riconoscere le distanze che andiamo a fare. Questo invece, diciamo, sfalso un po' le carte, le sfalsa però è sicero, cioè se la prendi in centro vibra, tra virgolette, male. Se la prendi un po' sulla punta ritorna ad avere un suono, diciamo, un pochino più più rotondo, più normale, anche se non riesce a raggiungere, o meglio, non ho trovato in qualche colpo quella sensazione di sweet spot preso perfetto in centro. È un bastone comunque molto duro all'impatto, mi dà un po' quell'idea di cattiveria, che infatti quando apriamo la faccia in bastone... si trasforma invece in un colpo che non parte, non parte molle. Infatti su questo voglio avere una tua teoria sul super flop shop. No vabbè, ci voglio provare anch'io. Devo ammettere che l'ho provato in tante salse, ma a colpo pieno è la prima volta. Tu non l'hai sentito? Sì, guarda, ho anche la prova provata, l'ho colpita esattamente nel centro del bastone. Perché tu lasci il triplo dell'erba? Perché io scucchiaio, non sono bravo a giocare. Non l'ho presa sulla punta, come qualche colpo tu hai fatto prima. e devo dirti che sì, l'ho sentito strano, ma non strano come mi hai raccontato tu prima. Questo anche per tornare al fatto che queste cose vanno un po' provate e testate. Perché se non ti dà così tanto fastidio questa parte, ma ti serve per altro, bene. Se no, tanto ci sono gli altri, insomma, non te l'ha prescritto il medico di prendere questo. Anche perché poi diventa tutta una questione di abitudine. Mi abitua a questo suono, questo diventa il suono della palla presa bene. Esatto. Super flop shot. La super teoria di Gigi è il flop shot con gli high toe. Allora, adesso ho colpito la palla proprio dove è stato disegnato. Lì. Ok. Ecco, cosa succede? Quando tendenzialmente io cerco un colpo del genere, cosa voglio fare? Voglio poter fare tanto swing per fare poca distanza. Ok? Quindi, in realtà, come noi abbiamo sempre fatto, nei tempi che furono, il bastone normale, che qui, in questa zona, come ho preso qua, ha meno massa, parte più piano ancora. Suona a vuoto e la palla è bruttissima. Suona a vuoto e la palla è bruttissima. Il tocco quando la colpisci lì è bruttissimo. Però il risultato è che puoi fare tanto swing per poca strada. Mentre invece qui c'è un po' più di massa. Si sente. Infatti è il punto migliore dove suona meglio. Ecco, bisogna ragionarci, perché se lo si prende veramente tanto fuori, come ho fatto per esempio qua, la stessa palla qui sarebbe stata veramente in un punto assurdo e quindi non ha senso. Se la si prende un po' più vicina ai groove normali, invece, probabilmente, può bastare un bastone normale. Dobbiamo fare un po' di testa. Bisogna capire quando realmente può andare bene. Ma per che tipologia di giocatori consiglieresti questo bastone? Allora, partiamo dal presupposto che io comincio sempre dal basso, quindi dal bastone più aperto. Facciamo finta che il tuo bastone più aperto che vuoi mettere in sacco è il 58. A quel punto bisogna capire quali sono le situazioni in cui ti trovi più spesso per capire qual è il bastone migliore per derimerle. Ok, se ti capita, un po' come abbiamo fatto in questo test, di fare tanti flop shot, ti piace tanto passare sotto la palla, faccia del bastone molto aperta. Sempre, cioè, anche quando, fra virgolette, passami il termine, non serve tanto, ti piace vedere comunque la faccia sempre un po' aperta. Ecco, lì il 58 e a quel punto, probabilmente anche il 54, potrebbero avere senso. O se, per esempio, non hai il 58 e 54, hai il 56 e 60, sempre potrebbero avere senso. Sono un giocatore che tendenzialmente usa quel bastone quasi solo attorno al green, solo in quelle situazioni, o dal bunker o che, allora solo 58 o 60, quindi diciamo i lob. E il bastone sopra, quindi il 56 o 54, lo teniamo normale. E, in generale, non c'è che provarli questi bastoni, perché è l'unico modo per capire, magari ce l'ha un amico, magari ha una demo, magari facendo un fitting, per riuscire a capire se realmente tutti i vantaggi sono e me li posso portare a casa, ci sono e me li posso portare a casa, oppure lascia perdere, perché comunque il wedge normale, in ogni caso, le cose le fa comunque bene, se è scelto nel modo giusto. Benny, io ti faccio un'ulteriore domanda, ma a questo punto, visto che lavora molto bene per facce aperte, e quindi il bastone che non lavora dritto, ma il groove, perché li hanno fatti dritti? Bella domanda, perché effettivamente cosa succede? Finché tu tiri un colpo dritto, ok, i groove sono dritti, ma se io, sempre per tirare verso la telecamera, apro tanto la faccia del bastone, ok, i groove diventano a 40 gradi, 30 gradi, cioè... Sono messi in diagonale, in diagonale, effettivamente, probabilmente dei groove addirittura tondi, che così su questa parte diventano quasi dritti, poteva essere un'idea. Secondo me, guarda, adesso scriviamo a Callaway Taylor, questi qui... E facciamo nominare gli ingegneri capi della Callaway. Esatto, io voglio vederli con un angolo, cioè qua è dritto e poi giro. Ecco, così, già la forma con la punta allungata del bastone... È un po' strana. Non mi piace tanto, a quel punto li metti anche l'angolo, io non li prenderò mai. Pensa che a me, invece, quel pezzettino in più non mi dispiace, mi dà agio. Anche perché io che scucchiaio un pochino di più la palla, cioè passo più sotto la palla con le mani, mi capita spesso di prenderla nella parte alta. È un bastone un po' più alto quando magari la palla mi galleggia anche nel rough. Ha un po' più di sicurezza. Sì, non mi dispiace per niente. E voi? Avete mai provato un full toe, high toe, insomma questi bastoni con i groove su tutta la faccia? Ne conoscevate l'esistenza? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e... Ci sta! Bi, com'è? Beh, brutto. Cioè, è... è brutto. È brutto. Non ti piace? Allora, un po' non sono abituato alle linee. Teoricamente dovrebbero essere qualcosa di bello avere le linee lungo tutta la faccia, piuttosto che tagliate così. Eppure è brutto. Ah, sarà che a me non piace quando allungano la punta qua. Tipo i vecchi ping... Pingai di Pingzing, bravo. Quella forma lì non mi sconfì, però più di tanto. Ma con le righe... Ancora pezzo. Si vede ancora di più. E quindi... Non mi piace. A sto punto, ma falle anche sul tacco, così prende spina anche lo shake. Cioè, si sente, eh? C'è differenza. Passa l'altro? Sì. Sì, ma tanto. Il centro suona completamente diverso. Il centro... In punta, quello lì non parte. No, con il punta vedi che non riesco a farla... Si smorza, mentre quello lì ancora palleggia. Dopo un po' che giochi col nero, questo con il sole... Quando puoi aprire la faccia... Ti svampa. Ok, esatto. Mi, per riuscire a fare 10 metri... Non ci arrivi mai! Anche questa è corta. Anche questa è un'interazione... Questa è un'interazione... Grazie a tutti